Le previsioni meteo in Sicilia per domenica 29 settembre di Globus Television. Domenica, regime di alta pressione, ma soffiano venti tesi da nord giornata con condizioni di bel tempo, cielo prevalentemente poco nuvoloso. Temperature massime fino a 29 gradi, minime basse. Mari. Mar Tirreno da molto mosso a mosso, Mar Ionio mosso, stretto di Sicilia molto mosso.